Allora, ragazzi, iniziamo a vedere le funzioni con Maple. Ecco, ingrandisco un pochino con Maple. Allora, naturalmente è un argomento che riguarda non soltanto matematica, ma riguarda fisica, perché abbiamo visto la volta scorsa che la soluzione dell'equazione dell'oscillatore era un coseno. Quindi dobbiamo imparare anche a disegnare il coseno, adesso lo impariamo attraverso Maple e poi nel pentamestre lo impareremo in maniera teorica. Ecco, voglio dire soltanto un'ultima cosa su Python, su quei ragazzi che parteciperanno a Python. Allora, dovreste per favore andare sulla procedura PPS e vedere che siete stati accreditati dal sottoscritto. Perché questo significa che ho fatto le cose in maniera corretta. Per cui diciamo, a voi vi chiedo di entrare, ai cinque che si sono iscritti, gli altri non vedranno il corso, di entrare e di vedere se effettivamente siete accreditati. Allora, naturalmente noi di Maple abbiamo imparato ad usare, diciamo, diverse cose, diversi strumenti, eccetera, adesso ci manca lo strumento delle funzioni. Allora, come si fa a definire una funzione? Allora, la funzione naturalmente la possiamo chiamare in tanti modi, vedete, la chiamiamo tradizionalmente f di x. Avendo messo, tra parentesi, una variabile, vuol dire che lui capisce che questa è una funzione. È chiaro? F x 2 uguale, che ne so, facciamo una classica funzione di secondo grado che voi conoscete. Cos'è che vuoi? Ok, va bene. Va beh. Diciamo, probabilmente, eh sì, è una versione Maple 2015, quindi mi chiede di definirla come funzione. Allora, questa è la funzione, vedete, che va da x a x al quadrato più uno. Ok? Dimmi. Allora, ecco, si apre una finestra perché, come la vostra compagna saprà o vedrà, questo è Maple 2015. Noi nel PON abbiamo utilizzato Maple, ultima versione, e l'ultima versione non apre una finestra, è chiaro. Però, mi pare anche se ho rimasto un po' perplesso quando l'ho visto. Allora, è definita una funzione? Naturalmente, noi della funzione, per esempio, possiamo essere interessati a calcolare le immagini, no? Per esempio, se io volessi calcolare f di 2, cioè quanto vale la funzione in 2, naturalmente voi sapete che dovete fare 2 alla seconda che fa 4 più 1 fa 5. Ok? Quindi f di 2 è uguale a 5. Ci siamo? Proviamo a fare, vabbè, dai, facciamo f di 20. f di 20, va bene, 401. Ok? Allora, adesso, che cosa succede se io dovessi fare, che ne so, f di x più 3? Vedete? Lui al posto di x va a mettere x più 3. Naturalmente qualcuno potrebbe dire, sì, ma vorrei vedere l'espressione sviluppata. E allora posso fare un expand. Vediamo se funziona questo comando. E con questo comando lui dovrebbe sviluppare il quadrato. Ci siamo? Ok. Va bene? Allora, vediamo se funziona. Adesso, naturalmente, voi sapete che è importante per noi, non soltanto le immagini, ma anche le controimmagini. Se io ho y uguale a 3, per esempio, voglio sapere quali x danno y uguale a 3. L'abbiamo fatto. E, naturalmente, voi capite, metto il cancelletto, che se tu vuoi trovare le x, ho messo il cancelletto per dire, sto facendo un commento, no? Se noi vogliamo trovare le x tali che f di x è uguale a 3, questa tecnicamente è un'equazione. Ci siamo? Qui dobbiamo risolvere un'equazione. Allora, l'equazione sappiamo che si risolve con solve. x al quadrato più 1 uguale a 3, quindi diventa x al quadrato uguale a 2. Quindi x uguale a più o meno radice 2. Quindi vedete che Maple mi dà anche quelle che si chiamano le controimmagini. Dimmi. No, allora, la vostra compagna giustamente mi chiede perché qui mettiamo l'uguale e non due punti uguale. Allora, attenzione. Scusami. Allora, è giusto quello che ha detto, lo voglio dire in altre parole. Allora, quando tu metti due punti uguale, stai dichiarando che quell'oggetto è definito così. Quando metti l'uguale vuol dire che vai a risolvere un'equazione, se metti solve. Ok? Se avessi scritto f di x uguale a x al quadrato più 1 diventava un'espressione. Dimmi. Mi auguro che... Allora, adesso noi vogliamo anche disegnare questa funzione, no? Allora, state attenti ragazzi. Dimmi. Ci sono ragazzi fenomeni, naturalmente. Devi andare qua. Qua. Dici tu, me lo dici tu. Ok? Allora, attenzione. Adesso vogliamo disegnare il grafico della funzione. Va bene? Sappiamo che è una parabola, è molto facile. Dimmi. Allora, lì dipende dal... Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Non lo so. Prova a riscrivere. Non vedo un errore specifico. No, non expand. Riscrivere il solve, perché il solve è il problema. Se no... No, ma quello non importa, perché tanto... Ragazzi, a volte succede che non funziona, non so dirvi perché. Io sarei dell'idea di aprire un altro foglio e di riscrivere. Allora... Adesso quello che vogliamo fare è disegnare il grafico. Il grafico è una parabola, lo sappiamo bene, l'avete imparato bene. Allora, il comando è plot. Attenzione, plot, f di x, va bene? Per esempio, vediamo cosa fa. Questo sta lavorando nell'infinito e vedete che ci disegna una parabola. Va bene? Allora, ragazzi, attenzione che noi possiamo impostare anche il colore in maniera diversa, mettere una leggenda, eccetera, 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 no? Vedete che è molto grezzo? Allora, adesso io non mi occuperei di queste rifiniture, va bene? Che sono importanti, perché giustamente uno potrebbe dirmi, ma mi piacerebbe che ci fosse scritto y uguale a f di x vicino alla curva. Però sono rifiniture, va bene? Non appesantiamo troppo. Ecco, tuttavia naturalmente può essere importante decidere, per esempio, di disegnare il grafico di questa funzione su un intervallo, no? Quindi quando la x, per esempio, va, che ne so, da 1 a 10, ad esempio, no? Quindi vuol dire andare sulla parabola, prendere 1, prendere 10 e fare vedere soltanto questo pezzo, no? Può essere interessante. Allora si scrive x uguale a 1, scusami? No, non due punti uguali. Ok, non due punti uguali, ma x uguale a 1, poi puntini, puntini, 10. Ok, la sintassi è così. Vedete che ci viene dato soltanto un pezzetto, no? Di parabola. Vuol dire, guardate bene la sintassi, perché la sintassi deve essere giusta. x uguale a 1, puntino, puntino, 10, e viene fuori la parabola. Ok? Mezza parabola, eccetera. Allora, adesso, naturalmente poi ripeto, si può scrivere, si può dare il colore green, il colore blu, eccetera, eccetera, ma sono raffinatezze che non ci interessano, eh? Io ricordo che poi voi siete curiosi, eh? Sapete che c'è il detto, the curiosity kill the cat, va bene? Voi siete curiosi, no? E quindi andate e cercate, trovate. Ecco, una cosa che non vi ho detto, per esempio, uno potrebbe dire, professore, guardi che io sono curioso, voglio sapere, voglio imparare. Allora, a parte il fatto che uno va su Google, su internet, dove vuole, e ci sono migliaia di persone che hanno scritto documenti in cui ti insegnano ad usare veramente Maple. Però Maple ha anche una leggenda, no? Per esempio, io non conosco la sintassi del comando plot, vedete? Scrivo plot, mi si apre l'help, vado su plot e vedete che su plot, naturalmente è tutto in inglese, fortunatamente non è in francese, anche i canadesi e i francesi ci sono, eh? Vedi, sono tutti gli esempi, sono tutti gli esempi, no? Su come fare, su come mettere più funzioni, sul colore, red, green, blu, su quelle tre funzioni, eccetera. Ecco, naturalmente l'help vi dà una mano, no? E quindi potete imparare. Allora, uno dice, ma se io volessi imparare, come posso fare? Eh, allora, ragazzi, guardate che lo vedremo con quelli con cui lavoreremo in Python, come si dice, ok, non c'è nessuno di fede islamica, quindi come si dice, diciamo, il coding è come il maiale, non si putta via niente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi abbiamo scritto un programma, il nostro compito non è quello di riscrivere il programma da capo, ma di prendere pezzi, copiare, incollare, copiare, incollare. Cioè, quando io lavoravo come programmatore, all'inizio ero rigido, devo scrivere tutto da lì. Dopo un mese che ho sudato, ho perso un po' di capelli, diciamo, ho capito che bastava semplicemente copiare, incollare e usare la mia potente logica matematica. E voi ci avete una potente logica in testa. Ok? Bene, ci siamo. Allora, per esempio, se io volessi riportare questo esempio, vedete? In questo esempio, diciamo, dell'help, l'autore cosa fa? Vedete? Plot multiple functions on the same graph, vuol dire disegniamo funzioni multiple sullo stesso grafico. Vedete? Disegna la funzione costantemente 1, la funzione, la disettrice e la parabola. Vedete che il colore, Maple capisce che deve dare colori diversi. Se però noi volessimo invertire i colori, poi sotto ci spiega come fare. Allora, uno dice, ma se volessi farlo sul mio foglio, come posso fare? Sono due modi. Uno, mettersi lì a copiare, oppure prendere l'istruzione e incollarla. Io farò così. Ok? Quindi seleziono l'istruzione. Control C. Sei sicura? Vado qua? Ok? Ragazzi, però dovete essere un po' proattivi, eh? Dov'è che non ce l'hai? Fai vedere. Ho per il post. Non c'è. No, vai su. Detailed information. Ok, non c'è, ragazzi. Ho visto che saranno versioni diverse. Allora copiate quello che ho scritto e scrivete. Cioè, è chiaro? O c'è sul sito di Maple? Va bene? Quindi per disegnare più funzioni insieme, parentesi quadra, le tre funzioni, virgola, la X naturalmente non è obbligatoria, ma semplicemente per far vedere meno due, due. Se io togliessi, diciamo, questa cosa qui, vediamo che succede. Mi fa vedere, vedete? Vabbè, ragazzi, ci va un attimo a scrivere X uguale, meno due, puntini, puntini, due. Ok. Allora, dimmi. Ragazzi, avete visto che, io non so perché, ma alcuni di voi andando sull'ELP non vedono questo esempio. Misteri della fede, può capitare. Però vedete che c'è anche un vostro compagno che ha detto, me ne sono andato direttamente sul sito di Maple, e qui dovete essere, diciamo, proattivi, no? Nel senso, smanicarvi un pochino, quindi ricordare la regola che qui non siamo in classe, non siamo, sì, siamo in classe, non siamo durante una verifica dove voi dovete lavorare con la vostra testa, qui abbiamo internet e possiamo chiedere aiuto a tutti. Ok? Allora, adesso però, quello che volevo fare con voi, perché poi volevo disegnare le funzioni se ne cos'è, almeno una volta, volevo per esempio vedere come si può studiare il dominio di una funzione, no? Voi sapete che noi siamo molto interessati a questa tipologia di esercizio. Allora, supponiamo di avere f di x uguale, allora vado qui, prendo la radice quadrata, poi metto una frazione, avete capito come ho fatto? Ho scritto f di x due punti uguale, ho cliccato su radice quadrata, all'interno del radicando ho cliccato sulla frazione, ecco, adesso qui mi invento una funzione, x al quadrato meno 3 per x, attenzione, non 3x, 3x è come Beatrice, cioè è un nome, non è un prodotto di lettere, meno 3x più 1, e qui che ne so, posso mettere, che ne so, x alla terza meno 8, cerchiamo di non essere esagerati, ci viene chiesto di studiare il dominio, cosa devo fare? Come faccio a studiare il dominio? Ditemelo prima a parole e poi cerchiamo di farlo su Maple. Esiste? Quali sono? si chiama radicando, il radicando maggiore o uguale a 0. Allora, se voi ci pensate, almeno così mi è parso, poi potete correggermi, la vostra professoressa come risolveva questo dilemma? Andava a studiare direttamente il radicando maggiore o uguale a 0 e non andava a studiare il denominatore perché tanto diceva mentre studio il radicando poi arriva la condizione. E Maple Maple fa lo stesso, no? A Maple non interessa la condizione x alla seconda meno 8 diverso da 0, lo sa già, per cui è sufficiente mettere il radicando maggiore o uguale di 0 e poi Maple mette anche il denominatore di suo conto. Va bene? Io però vi ho detto che sarebbe meglio fare tutti i passaggi. Ok? Allora, vediamo se facendo tutti i passaggi Maple l'accetta. è una cosa che non ho mai fatto perché non sono un professore di Maple io, cioè sono di matematica e prestato alla fisica. Quindi, ok? Quindi abbiamo dobbiamo mettere maggiore o uguale di 0. Come si fa il maggiore o uguale? Il maggiore o uguale si fa col simbolo di maggiore prima e poi l'uguale dopo. E poi giustamente però vedete il diverso non c'è non lo vedo eh no quello in no vabbè dai non lo mettiamo se vuoi prova 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 a vedere se va bene terza meno 8 lo fa? Eh, bravo bravo Matteo Matteo ci ha detto quindi il diverso si fa con punto esclamativo uguale ok? Scusa? Sì, anche minore e maggiore ok però diciamo avete visto cosa ho fatto? Allora punto esclamativo poi poi digitate uguale lui automaticamente vi mette diverso vediamo se se la fa questa eh virgola x ok vedete che Maple diciamo è abbastanza intelligente allora cerchiamo di capire naturalmente qui lo scrive un pochino avete visto cosa cosa se io dovessi schiacciare cliccare union cosa succede? No peggio ancora allora vabbè dai allora ci ha detto che la x deve essere compresa tra tre mezzi meno un mezzo radice cinque minore uguale di due e poi la x deve essere maggiore uguale di tre mezzi più un mezzo radice cinque allora adesso andiamo a fare il solve senza mettere la condizione sul denominatore vediamo se ci da adesso qui non non capisco perché vediamo se ho fatto un copy incolla me lo scrive così va bene ok vedete che facciamo così togliamo questo prendiamo solve perché è finito è finito in text qui dobbiamo dare math ragazzi da test era finito in test non so perché abbiamo math qui che diventa solve va bene lo rifacciamo control v virgola x ok e stavolta ha deciso di di scrivere l'intervallo vedete real range questo allora attenzione cosa vuol dire anche qui una scrittura che potremmo dire ai signori di maple di farla in maniera diversa allora vuol dire i numeri compresi fra tre mezzi meno un mezzo radice cinque incluso tre mezzi meno un mezzo radice cinque virgola c'è scritto open due quindi vuol dire virgola due con due non considerato e poi la x compresa fra tre mezzi più un mezzo radice cinque fino all'infinito ok è la stessa cosa va bene per cui maple anche se noi non fossimo così pedanti di mettere il denominatore diverso da zero lui ce lo farebbe fare ok allora adesso io direi che è giunto il momento di vedere come sono fatti i grafici del seno e del coseno che sono i grafici relativi al moto armonico allora definisco una nuova funzione la chiamo gt due punti uguale eh noi siamo abituati eh a lavorare con seno e coseno con la variabile t che è il tempo però nessuno ci obbliga a usare t potremmo anche usare x lo usiamo t visto che siamo eh allora eh digito seno di t e di nuovo si apre la finestra function definition ok vedete questa è la funzione t sentì adesso l'andiamo a plotare questa funzione che vogliamo capire com'è fatta eh facciamo il plot di g di t no l'ho chiamata g se voi lo potevo chiamare aurora va bene allora guardate com'è fatta la funzione allora vi ricordo che pi greca mezzi è novanta gradi pi greca è centottanta tre pi greca mezzi è duecentosettanta e due pi greca è tre sessanta guardate com'è fatta è una funzione naturalmente periodica come è giusto che sia no? nel moto oscillatorio armonico il seno è zero a zero gradi a centottanta gradi a duecento gradi vale uno diciamo eh quando l'angolo è novanta gradi vale meno uno quando l'angolo va bene da questo punto di vista vi è chiaro? disegniamo adesso il coseno lo disegniamo insieme al seno così vediamo che cosa succede allora prendo un'altra funzione ragazzi non sono obbligato a dare un nome a queste funzioni eh però dico st ok facciamo un plot eh quadra di che cosa? di gdt virgola ht virgola adesso io direi siccome abbiamo capito che sono delle funzioni periodiche le vediamo su 0 2 pi greca no? ricordatevi che pi pi è riservato al pi greca ok allora vedete qual è il seno quella in rosso o quella in azzurro? ok è in ordine però quello in rosso è il seno perché il seno di 0 vale 0 mentre il coseno di 0 vale 1 vedete se voi guardate il seno e il coseno che cosa vedete? vedete che semplicemente sono shiftate di 90 gradi cioè se io prendessi il seno e lo spostassi di 90 gradi a sinistra avrei il coseno no? lo vedete? se voi prendete la curva rossa che è il seno e la spostate a 90 gradi a sinistra si viene a sovrapporre con il seno ci siamo o no? ok va bene? pi e pi greco se se no andate a scrivere direttamente pi greco andate qua e cliccate su pi greco ok allora che cosa facciamo? che cosa succede ragazzi se io dovessi moltiplicare il coseno per 5 vi ricordate l'ampiezza di un oscillatore armonico l'ampiezza massima è a ok se io moltiplico per 5 vuol dire che aumentano il valore del del seno del coseno quindi richiamiamola nuovamente ht due punti uguali per esempio 5 per il coseno di t anzi no chiamiamola scusate non ht ma x di t chiedo scusa eh sì è una funzione va bene allora proviamo a plottare l'h no proviamo a plottare l'h e la x togliamo dai questo range il tempo va avanti all'infinito nell'oscillatore armonico qua vedete vedete che succede succede che la x di t viene naturalmente amplificata va bene di 5 mentre il coseno naturalmente assume come valore massimo il valore 1 ci siamo ragazzi vedete quindi quindi vedete visto che poi dovrete anche verrete anche intervistati eccetera vi faccio notare come voi immaginate di essere in classe e che io vi dica vabbè dai disegnatemi 5 per coseno di t come faceva facevo io e come faceva Archimede nei tempi andati allora io usavo il foglio Archimede usava la sabbia però che cosa succede succede che tu devi metterti lì punto per punto a fare il disegno mentre invece con un ambiente di calcolo evoluto a colpo d'occhio però poi qual è il punto il punto è che adesso noi andremo anche a sperimentare le fasi no? perché vi ricordate c'è quell'omega t più fi cioè voi immaginate se su carta millimetrata facciamo questo lavoro cioè diventa un lavoro infinito no? ok? quindi questo secondo me è un fatto positivo ci siamo? ok allora io procederei in questo modo adesso abbiamo visto che nell'oscillatore armonico la formula è omega t più fino allora prenderei una x di t due punti uguale che sia che sia il coseno senza ampiezza l'ampiezza con l'ampiezza uguale a 1 e metterei al posto di a 2 per t ok? per vedere cosa succede ok? e poi andrei nuovamente a plottare la x e il coseno per vedere cosa succede allora vedete che vedete naturalmente cosa succede naturalmente in 0 assume il valore 1 noi sappiamo che il coseno in pi greca mezzi assume il valore il coseno vedi? vedi qua in azzurro e uno potrebbe chiedersi ma il coseno di 2t quando assume il valore 0? quando 2t è 90 gradi cioè quando 2t è uguale a pi greca mezzi cioè quando t è uguale a pi greca quarti infatti vedi che il rosso assume lo 0 in pi greca quarti lo vedete ragazzi? quindi che cosa vuol dire? vuol dire che sostanzialmente il coseno di 2t assume i valori del coseno di t quando t è la metà cioè ci siamo? se tu vuoi sapere se tu fai coseno di 30 gradi e vuoi sapere quando il coseno di 2t assume questo valore devi mettere a t 15 gradi perché 2 per 15 fa 30 gradi quindi vedete che il coseno di 2t prende i valori del coseno di t prima metà tempo prima ok? dimmi scusa? e non so che cosa hai fatto qui no perché dovrebbe continuare sì dovrebbe continuare e però non so dirti perché ti viene ti viene così cioè le situazioni sono uguali aprirei un altro foglio francamente allora volevo vedere ancora questo naturalmente ragazzi se poi uno dice va bene mettiamo nuovamente il 5 per allora assistiamo ad un'amplificazione no? prova prova ad aprire un altro worksheet e a rifare perché non vedete? quindi diciamo in questo caso qui abbiamo avuto un'amplificazione della nostra funzione però il carattere di prima cioè il fatto che i valori vengono assunti per tempi dimezzati si conserva va bene? allora siamo alla fine e quello che vorrei vedere con voi è quando c'è la fase iniziale quel più fi ok? dovreste dovreste intuire che con quel più fi abbiamo uno shift vediamolo quindi ragazzi allora per ritornare diciamo a quello che abbiamo fatto in fisica poi se vi salvate il foglio no pi greca terzi ad esempio pi greca terzi vuol dire 60 gradi allora ripeto in questo esercizio a grande vale 5 omega vale 2 e fi vale pi greca terzi ok? naturalmente capite che questo esercizio è fatto da un matematico perché quando poi faremo gli esercizi sull'oscillatore armonico l'ampiezza omega e la fase avranno dei valori improbabili cioè valori fisici no? ok allora andiamo a vedere il plot no anzi facciamo così chiedo scusa definiamo definiamo anche un'altra funzione chiedo scusa dove non ci sia la fase iniziale così impariamo ok quindi ripeto consideriamo due funzioni una che ha questa fase iniziale un'altra no e proviamo a disegnarla insieme per vedere che cosa succede hai risolto il problema ma anche cambiando foglio fai sempre delle cose strane tu non è vero ok sto scherzando dai allora ragazzi guardate guardate adesso poi arrivo che abbiamo concluso sostanzialmente guardate vedete che i due grafici xt e y dt sono gli stessi se li guardate bene sono gli stessi soltanto che uno è spostato rispetto all'altro eh salute oggi oggi non voglio entrare non voglio spiegare lo spostamento a sinistra lo spostamento a destra la traslazione a sinistra però quello che vi faccio notare è che quando voi all'argomento vi aggiungete qualcosa il grafico si sposta a sinistra o a destra eh aggiungere in matematica vuol dire quantità positiva o quantità negativa per cui può essere sia a destra che a sinistra avete visto quindi quando noi vediamo l'oscillatore armonico eccetera che cosa succede succede che noi abbiamo la molla che va su e giù su e giù su e giù allora dare una fase iniziale alla molla vuol dire farla oscillare in modo diverso rispetto al solo coseno va bene cioè o uno shift verso destra o uno shift verso sinistra quel più più avete capito cioè da un punto di vista matematico uno potrebbe dire prendo l'asse delle y e lo sposto e ottengo la stessa curva da un punto di vista però se le vediamo tutte e due insieme vediamo che sono curve traslate ok hanno la stessa forma ma sono traslate come se nel coseno hanno la stessa forma ma sono traslate e questo da un punto di vista fisico ha un significato vuol dire che il movimento è leggermente diverso ci siamo allora io direi adesso vi lascio un pochino diciamo abbiamo finito sostanzialmente adesso guardo un attimo la vostra compagna e il suo problema la prossima volta però cercheremo di essere più tecnici quindi abbiamo giocato abbiamo capito eccetera quello che succede ok interrompo la registrazione un attimo Grazie.